ok forse è arrivato il momento di comprare una nuova macchina cavolo vorrei tanto creare una unicorn rtr come quella tu puoi creare un onisaurus stai ancora facendo il buffone con questi qua amico guardando tutti quei cerchi dovresti dare un'occhiata a questo anche se sei invidioso devi rispetto a bloc perché mi farà sentire tanto calore e conforto guardalo no seriamente amico è il numero uno sto cazzo non muoverti amico prova a prendermi se ci riesci va dai 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 che dire è la mia ispirazione completa un'altra sezione così e faremo sicuramente il botto continua così amico certo